Una domanda al filo della banalità, nel senso che se è vero che appunto vale il principio di chi inquina paga, allora chi ha inquinato è la proprietà, mi chiedo quali sono gli strumenti e come si può obbligare la proprietà a provvedere, perché mi sembra che sia il primo aspetto, anche io sono curiosa, mi occupo di numeri e quando è uscita questa questione qui sono andata a vedere il bilancio di acciaio e terni e sono spaventosi, cioè vi do un'idea, questi hanno chiuso l'utile 2022 con 156 milioni di utile, hanno una liquidità spaventosa, un patrimonio incredibile, allora io mi chiedo come cittadina se vale questo concetto italiano e europeo di chi inquina paga, quali sono gli strumenti per cui io obbligo questi qui a bonificare l'area? Non è possibile, e poi oltretutto ripeto è una società che non solo sta bene, fa fin troppo bene, pensate che l'utile, non voglio tediarvi con i numeri, ma il bilancio 21 ha chiuso con un utile di 52 milioni di euro, paragonabile all'utile della nostra smart, la gestione dell'acqua, nel 2022 ha triplicato l'utile, vi rendete conto, quindi non stiamo parlando di un, capito, ci rivolgiamo, un'azienda poveretta che non ha le possibilità per, ce li ha e come, allora la domanda è come posso, quali sono gli strumenti per obbligare chi ha inquinato a bonificare l'area? Grazie. Devo rispondere io? Sì, sì, così. Beh, in effetti qui c'è una complicazione in più, perché chi inquina paga, non chi è proprietario dell'area paga, chi inquina, quindi qui bisognerebbe risalire effettivamente a, chi è proprietario dell'area però ovviamente ha degli oneri e degli obblighi a sua volta, però il principio del chi inquina paga è riferito a chi ha inquinato, e quindi qui c'è tutto il problema, c'è anche qua giurisprudenza che ovviamente mette in un rapporto dialettico il comune, nel nostro esempio, con il proprietario attuale e sostanzialmente il comune deve diffidare, dire guarda quell'area lì così non è più utilizzabile, però se tu non lo fai intervengo io, ma se qui entra in gioco il discorso della carenza di risorse, diventa un circolo vizioso per l'amministrazione comunale, di fronte a un io non provvedo, non espropria e quindi arriviamo al punto morto, insomma, è un po' questo il problema. Gli strumenti ci sono, ma ripeto, il principio riferisce l'obbligo all'inquinatore, non al proprietario. E in questo caso Arvedi bisognerebbe vedere anche i passaggi di proprietà, no, tra... Ah, e Thyssen, ah, infatti, infatti. Su... Ah, è rimasto 6. Vabbè, quindi, alla fine, quindi questo... Allora, sono, come dire, contestabili, hanno legittimazione passiva, si può chiedere loro, e sono anche solvibili, no, quindi insomma, direi, altro che... Sì, vabbè, ma insomma, mi sembra che ci siano tutti i requisiti. Vieni qua, Paolo. Vorrei fare una domanda, una domanda ingenua, ma se il sindaco di una città è responsabile della salute dei suoi cittadini, in capo a lui non c'è un obbligo da parte della legge e quindi una possibile iniziativa di carattere addirittura penale o civile, non da amministrativo, grazie. Vabbè, certo. Effettivamente questa parte avevo omesso di considerarla, però sì, potrebbe esserci, a fronte di un'inergia dell'amministrazione comunale, quindi del sindaco che non adotta l'ordinanza, una responsabilità per omissione dei dati d'ufficio, quindi secondo l'articolo 328 del codice penale, sì. potrebbe esserci, quindi qui bisognerebbe diffidare l'amministrazione comunale, diffidare a che l'amministrazione comunale, a sua volta di fidi, è scaduto il termine, si potrebbe contestare questione dell'impienza ai fini anche della contestazione dell'omissione dei dati d'ufficio. Già solo però ho messo a vigilanza anche, ancora prima. Dunque, scusate se paragrafo subito il famoso verso di Virgilio, timo i greci anche quando portano doni, se mi perdonate il latino maccheronico, timo industrialos o privatos, ut giusta facentes, anche quando sembra che facino delle cose giuste. Io credo che, adesso la consigliera comunale, Ravenale diceva il comune non ha soldi, i tempi sono lunghi, io credo che i tempi non siano più lunghi di quelli la lunghissimi e che si potranno essere in futuro dando la cosa in appalto o comunque in associazione con il privato, perché ritengo che il privato non farà mai nulla se non quando avrà trovato il modo, se e quando avrà trovato il modo di fare su qualcosa, su quell'area che sia profittevole. Adesso io non so quanto le campagne di bonifica di cui ci è stato parlato siano state costate in rapporto a quello che è il bilancio di Arvedi. Non ho un'idea, credo che sia una cifra relativamente piccola, ecco, però la cosa pubblica per quanto ciò sia possa essere per alcuni un po' difficile da accettare, non può far altro che rientrarsi, che rientrare in possesso di queste cose, di queste aree, se si vuole toglierle dal loro stato di degrado. Io ricordo che come funzionario della direzione ambiente della regione, ebbe una volta una delle mie, chiamiamola, accesa discussione, io ho fatto circa una quarantina di procedure, di procedimenti di valutazione ambientale di cave, di aree estrative, poi quattro cave di pianura, ebbe un'accesa discussione col collega dirigente del settore cave, perché c'è in giro una serie, per il Piemonte, credo anche nelle altre regioni, di aree estrative coltivate, si parla di coltivazione di cava come se fosse un campo coltivato, ma questo è il termine tecnico. quando negli anni 50, negli anni 60 e anche 70, quando non erano previste cauzioni, cioè che il cavatore lasciasse una cauzione, dice che poi ti serve a termine coltivazione per fare il recupero ambientale, qui non si tratta di bonifica, si tratta di recupero, nel senso che non c'è inquinamento, poi magari qualche cava ci avevano anche seppellito qualcosa, ma lasciamo stare. però le cauzioni sono diventate qualcosa di sostanzioso soltanto nei primi anni 90. Prima non esistevano del tutto, in una seconda fase esistevano, ma erano così misere che i cavatori preferivano lasciare lì la cauzione e non fare il recupero. Quindi, quando capitava che qualcuno arrivasse a dire «Ah, quella vecchia cava là, che era una cava dove non era stato fatto il recupero con la piccola cauzione prevista, la vorremmo allargarla» e cosa? Il mio collega diceva «No, qui non si può perché qui avrebbe dovuto essere fatto il recupero con quella misera cauzione che è stata lasciata». E allora è evidente che se si vuole porre rimedio a questi mali comuni extraurbani come sono le cave o intraurbani come sono tutte queste aree degradate, io non vedo altra possibilità che una ripresa di possesso da parte dell'ente pubblico. Questo lo dico in rapporto al discorso che è stato fatto dalla consigliera che adesso non c'è più mai. Volevo fare una domanda dopo questa disquisizione sempre sugli indennizi. la quale parte da una frase buttata lì dall'assessore Mazzolini in quella che forse è stata la sua prima uscita pubblica una serata al gruppo Città e Territorio dell'Unione Culturale. Siamo nella primavera del 22 dell'anno scorso. A un certo punto Mazzolini parlandosi di aree dismesse buttò lì una frase che diceva ma è un po' difficile determinare il valore di queste aree. Ora io in base alla legge della domanda e dell'offerta che io abborro ma che è dominante nella nostra società direi che queste aree non parlo solo della TIS adesso faccio un po' della mia solita distrazione di massa nel senso che io penso sempre a quelle altre 198 aree ZUT o ATS che ci sono in Torino secondo la proposta tecnica di piano regolatore e che oddio per il film il valore dell'area sono lì qualcuna da 25 anni qualcuna da 22 qualcuna da chissà quanto allora si direbbe così una persona rozza e ingenua al tempo stesso come me direbbe che debbano valere abbastanza poco però allora quali abbastanza poco se non niente allora quali argomentazioni quali sottigliezze quali trucchi diciamo si potrebbero utilizzare per gonfiare più o meno artificialmente il valore di queste aree beh sì bella domanda cosa ci possiamo aspettare non sono un esperto di stime di indennità di esproprio però c'è tutta la parte che tra l'altro è una parte che oggi proprio stavo riguardando dello stesso testo unico su come si fa una proposta di indennizzo anche ed è una parte abbastanza abbastanza complessa devo dire la determinazione provvisoria dell'indennità cioè su come si fa la stima della determinazione provvisoria che poi va discussa con gli espropriandi e lì è evidente che secondo me nella risposta di Mazzoleni c'era un non detto piuttosto piuttosto pesante cioè dice qua sono difficilmente valutabili la ragione appunto è che il rischio è che insomma ci potesse essere un atteggiamento mercantile nel contrattare l'indennizzo e la misura dell'indennizzo però secondo me nelle pieghe di questo corposo testo unico dagli articoli eventi e seguenti del modo di determinare l'indennità a qualche spunto si può trarre poi devo dire che tutte le contestazioni sull'indennità di esproprio non vanno avanti al giudice amministrativo ma si vanno avanti al giudice civile il che la dice lunga perché appunto lì ho aperto i tempi ma è evidente che il giudice amministrativo non si sporca le mani sulle scelte che hanno a che fare solo con la vilpecunia lui fa le scelte strategiche sui servizi pubblici sull'urbanistica sull'edilizia ma quando si tratta di monetizzarlo allora lì è il giudice civile quindi non sono in grado adesso qui sui due piedi di dire come si fa a contrattare l'indennità di esproprio però insomma ci si può lavorare ci si può lavorare Giorgio Gimbarò è uno dei presentatori oltre che salchiamo la pelle lina della delibera di iniziativa popolare di variante di piano regolatore buonasera grazie per la sua lucida esposizione la mia volesse una domanda fatta una premessa alla luce anche di quanto ha detto lei che un po' mi preoccupa sui tempi o porre di darci del tu se posso quindi i formalismi se è possibile certo grazie allora noi come ci ha anticipato prima Maria Angela abbiamo presentato già da diverso tempo questa famosa delibera di iniziativa popolare così come lo statuto recita ora vogliamo visto che lo statuto stesso non dà dei termini perentori nei ordinatori vogliamo accettare il fatto che devono fare tramite i loro settori delle veri ci può stare sono passati già quattro mesi però o sei mesi il tempo però ora noi contestualmente abbiamo anche avviato però un altro strumento importante che lo statuto all'articolo 20 ci consente ossia quello del referendum che la città di Torino è una delle poche anzi devo dire sono quattro le città in Italia che ha uno statuto dove il referendum è vincolante per l'amministrazione addirittura una volta che si vince il referendum il comune è obbligato a modificare anche il bilancio chiaramente oltre alla raccolta delle firme 10.000 iniziali c'è il presupposto che ci sia un quorum del 25% detto ciò noi avevamo presentato già inizio settembre a fine agosto e inizio settembre erano state verificate le oltre mille firme iniziali con cui il testo referendario deve essere accompagnato affinché un'apposita commissione comunale lo valuti e nello stesso tempo lo statuto recita che la commissione una volta che le firme sono state validate ha 15 giorni di tempo per esprimersi nel frattempo può convocare il comitato referendario che noi a suo tempo avevamo appunto portato avanti non sentendo nulla da parte loro abbiamo chiesto noi un incontro all'amministrazione ce l'ha dato e l'unica richiesta che ci ha fatto era semplicemente un chiarimento cartografico che noi entro una settimana abbiamo prodotto bene da allora non si sono più fatti sentire allora io ho scritto ho detto per caso vige il silenzio assenso perché noi vorremmo andare avanti nella raccolta delle firme anche perché stiamo operando per far sì che questo referendum arrivi contestualmente all'election day di giugno anche per far risparmiare l'amministrazione sui costi la risposta che ci ha dato l'amministrazione è un po' francamente che è qui la mia domanda alla luce al fatto che hanno preso già tre anni di tempo per fare da una commissione all'altra cioè ora sono preoccupato allora perché se qui prendono tempo vuol dire che ci stanno un po' giocando allora la risposta che ci ha dato il presidente della commissione che è anche presidente del consiglio comunale è quella che l'articolo sì è vero che dice però hanno carattere ordinatore e non perentorio potendo la commissione disporre tutti gli approfondimenti ritenuti in dispensa ma allora se lo statuto ci sono scritte 15 giorni cosa vuol dire che tu la commissione ti puoi prendere tre mesi o un anno e allora ci stanno giocando cioè non vogliono dare ai cittadini l'ultima parola perché no il testo referendario il testo referendario è praticamente identico a quello della delibera che abbiamo consegnato con l'aggiunta che quell'area lì una volta modificata possa realizzarsi in quell'area l'ospedale questa è l'unica aggiunta che abbiamo fatto dopodiché i cittadini dovranno rispondere con un sì o con un no perché è un testo referendario non è che noi dobbiamo andare lì a portare alla commissione la variante che variante deve essere un malloppo così quello è un problema che deve occuparsene l'amministrazione nel momento in cui i cittadini sono espressi noi siamo in questa situazione cioè loro evidentemente non vogliono dare ai cittadini la possibilità di dire la loro come possiamo noi difenderci da questo fatto cioè questo ordinatorio è così ordinatore e per noi non possiamo dire nullo perché non è perentorio allora è veramente io sorrido però veramente è una presa in giro questa allora a parte il fatto che è invenzione giuridica che solo noi giuristi siamo come dire dei sofisti perché se c'è un termine il termine è però la giurisprudenza i giudici hanno inventato la distinzione tra termini perentori e termini diciamo appena di decadenza o ordinatori e perentori e tra l'altro già i criteri per distinguere sono tutti fumosi perché la giurisprudenza dice dipende dal tenore letterale dove c'è scritto appena di decadenza allora è perentorio dove c'è un avverbio severo inesorabilmente inequivocabilmente eccetera eccetera è perentorio però al netto di quello il fatto che sia ordinatorio quindi che non abbia carattere di decadenza non significa che l'amministrazione possa fare quel che vuole perché c'è un principio che sta scritto nella legge 241 del 90 che è stato introdotto tra l'altro da poco che è il principio di correttezza e buona fede nei rapporti tra l'amministrazione e i cittadini e viceversa anche tra i cittadini e la pubblica amministrazione correttezza e buona fede che significa che così come vale nei privati quando contrattano perché tu non devi nascondere al tuo controparte eccetera anche l'amministrazione pubblica non può prendere in giro il cittadino e quindi che ho detto qui la questione è di fidare io darei un termine perentorio questa volta il termine perentorio lo diamo noi si difida la commissione a riscontrare a riscontrare entro un termine la difida dell'empio è il solito 15 giorni la codice civile e in difetto poi però bisogna vedere cosa fare perché il problema è che lì o si va a finire davanti a un giudice per condannare l'amministrazione e in particolare i componenti della commissione che non hanno rispettato termini che asseriscono ordinatori e che non sono in grado di motivare per quali ragioni hanno bisogno di un'istruttoria tra l'altro indefinita perché uno il testo è lo stesso non ci sono state modifiche aggiuntive quindi non c'è bisogno di approfondimento istruttorio e giuridicamente diciamo si ne die perché non ti hanno detto ti risponderò entro il quindi ci stanno prendendo in giro quindi lì di fida io suggerirei di fida quindi costituzione immora direbbero i civilisti entro il mi devi rispondere due se no stai violando il tuo statuto tre e poi con le conseguenze anche di responsabilità patrimoniale perché sei comunque un funzionario pubblico e se ritardi nell'adozione degli atti ne devi rispondere c'è tutta una disciplina anche però è sui ritardi nei procedimenti amministrativi qui fa ancora più effetto perché sono proprio gli istituti di democrazia partecipativa cioè che vengono violati quindi è ancora più grave per quello io farei così di fida e poi vediamo insomma bisogna mettergli un po' di paura non lo so è una parola grossa insomma un po' di fretta insomma come dire un po' di fretta perché paura mi sembra eccessivo però però io farei così anche perché insomma forse è quel caso dei cittadini di San Salvario che hanno dovuto essere per cui il comune è stato lo so dannato ma infatti ma infatti ci sono se 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 bisogna aver voglia di andare avanti poi dal giudice eccetera eccetera però insomma gli strumenti ci sono lì bisogna contestare uno che non c'è un'esigenza istruttoria che anche se il termine è ordinatorio non significa che si possa gestire si ne dì insomma tu mi devi dire quali sono le esigenze istruttorie per le quali sono passati mesi da quando ti ho fatto distanza insomma momento l'architetto Bettini su questo è tutto vero io preferirei andare in presidio davanti al comune che dica ah beh certo poi ci sono anche abbiamo fatto davanti dei come dire dei metodi più persuasivi forse per carità l'architetto Buonasera le persone con cui mi è capitato di confrontarmi sanno di tutte le mie perplessità rispetto alla rispetto all'iniziativa espropriante perché considero indubbiamente e assolutamente prioritario quello della bonifica anzi io considero la bonifica semmai il passaggio che possa aprire eventualmente una prospettiva di espropriazione ora io naturalmente ho letto i volantini e le convocazioni che Maria Angela instacabilmente fa e in tutti i riferimenti di legge eccetera però contengono sempre il problema dell'indennizzo anche quello del comune eccetera parla di negozio negozio vuol dire negoziare quindi contrattare eccetera a proposito della valutazione Paolo la valutazione sale quando il proprietario vede che c'è uno che ha interesse a quel punto indubbiamente si convince ad alzare il prezzo che poi ci riesco meno è diverso ora venendo ai problemi premetto ancora una cosa una cosa che veramente non sopporto è che la bonifica sia il grado di bontà di efficienza della bonifica sia relativa all'attività che uno va a svolgere anche io lo trovo ma questo è inaccettabile non riesco a capire giuridicamente come possa stare in piedi è folia pur cioè vogliamo l'esavalente ottimo è sempre l'intervento del chimico che ho già sentito cioè se la bonifica è un 50% ci va bene? ma c'è la bonifica cioè se l'inquinamento è dimezzato o due terzi va bene è giusto ma quel terreno come ho detto l'altra volta è stato concesso assolutamente sano il minimo che si richiede è che ritorni per lo meno sano come è stato è stato dato in gestione e quindi bisognerebbe che giuridicamente questa cosa sparisse anche per fare chiarezza e perché se no c'è la contrattazione tra il proprietario l'ente locale eccetera ma sì mettiamoci d'accordo no 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 assolutamente non ci devono essere in questo caso poi trattandosi di falde acquifere ma io faccio un salto sulla sedia ma è una questione vitale maledizione ecco perché ritengo che comunque a parte tutti i discorsi alcuni condividono di Rodopo eccetera ritengo che sia proprio di priorità assoluta e qui entra in ballo il sindaco ma come ma tu sindaco e predecessore e ancora prima eccetera il tuo dovere era quello assolutamente di combattere l'inquinamento e di garantire la salute dei cittadini ma cosa aveva fatto hanno fatto questi sindaci hanno lasciato perdere perché era una grana si dice è una grana ma cioè come dire la gente tanto muore ma è un problema accidenti no un sindaco deve innanzitutto occuparsi di costringere in tutti i modi in tutti i modi che sia risanato questo territorio costringere c'è un solo modo che lo confermo ha detto lei è quello legale bisogna denunciare bisogna assolutamente ehm a dire con tutti i mezzi perché sia pubblicamente chiarito la sua ignavia e la sua indifferenza rispetto a un problema di salute maledizione e naturalmente si spera che i tempi non siano biblici ma però mi sembra l'unico modo e tu dici Mariangela come dire non tiriamola tanto sulla questione dei soldi e no maledizione purtroppo viviamo in questa società e allora e allora a proposito appunto della bonifica è giusto chiedersi ma insomma quanti soldi ci vogliono questa benedetta modifica totale totale perché così tra il sentito dire e magari le bufale le bufale circolanti ho sentito un 3 milioni ma davvero sentito che l'ha detto una radinale perché ha guardato gli atti nell'ultimo documento presentato dalla Arbedi parla di 3 milioni ecco allora rispetto rispetto a un attivo di 150 mi sembra che siano noccioline io non so se quel 3 milioni si riferisce però a quella frazione di di bonifica che interessa al proprietario dicendo e magari falsando che farà solo una cosa eccetera ma insomma è una cosa che da un lato andrebbe e che comunque e che comunque andrebbe costi qualche costi chiarendo che non si accettano frazionamenti di intervento di bonifica che sono una competenza un obbligo e un dovere appunto della Arbedi poi se la vede a lui se deve farsi rimborsare da tisse eccetera questo è un problema loro che magari dal quale avranno sicuramente già parlato eccetera e quindi e quindi bisogna insistere su quello eccetera poi certo Arbedi ponendo che invece non sono 3 milioni ma sono magari 30 e dica oh caspita si trova magari nonostante l'ottima conduzione della sua azienda si trova a dire ma insomma mi costa una valanza e allora magari il discorso della 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 reappropriazione pubblica può ritornare in auge però è quella è quella la via che credo che sia un modo a noi non conveniente quello di mettere in auge e in troppa evidenza la questione dell'esproprio rispetto a quello invece che fa da veicolo rispetto a quello invece di assolutamente parlare della salute garantire la salute finalmente farla finita su questa cosa perché è una vergogna colossale questa il silenzio tra l'altro che c'è stato su questo problema enorme e inchiodare l'attuale anche l'attuale proprietà al rispetto di questo diritto di tutti noi questo è il punto ah scusate dunque è giusto che un intervento di comunque sia di destinazione di quell'area rientri nel piano regolatore tra l'altro il piano regolatore che l'attuale sindaco spera che si concluda e sia approvato nella legislatura c'è tre anni ce ne vogliono molto ottimista eccetera però appunto è giusto che sia così ora il e che quindi sia un elemento importante perché un piano regolatore non dovrebbe limitarsi a dire che c'è da potenziare la sanità pubblica gli istituti relativi eccetera eccetera ma indicare proprio esattamente la localizzazione di questo ora e mi rivolgo a Paolo che anche la prossima riunione del 6 ti parlerai delle 198 le zone di Torino eccetera no ma fai bene eccetera ora questo è un principio serve però e te ne do atto a stabilire un principio che a me sta molto a cuore costruire sul costruito costruire sul costruito e il 6 ripeterò questa cosa perché la Thyssen e così come altre zone ma soprattutto lì comunque comunque anche la questione del parco che diceva la consigliera con la quale concordo sul fatto che effettivamente la il rischio è che diventando di nuovo pubblico poi il pubblico si trovi nelle stesse sono peggiori condizioni di inadempienza rispetto all'assolvimento degli obiettivi precedenti attenzione eccetera mentre invece sulla questione della salute no si può transigere fino non voglio usare termine e quindi però il principio deve essere invece assolutamente rispettato speriamo che sia nel nuovo piano ovulatore che si costruisca solo sul costo è stato molto bravo io come al solito devo scappare perché deve andare in treno da Avigliana perché la macchina non la usa più non so se avete detto quell'articolo che è uscito su Altra Economia a fine a fine ottobre proprio su i luoghi urbani di Fossero Pileri se volete lo facciamo circolare perché affronta sono tre paginette chiarissime le mettiamo magari sul sito di realtà che così chi vuole se le procura abbiamo il nostro amico Luca che vorrebbe collegarsi è possibile gli diamo la parola come ti arrangi tu proviamo Luca vuoi provare? Sì io ci sono voi ci siete mi sentite? posso spegnere la luce? Vai Luca eccomi mi sentite? Sì sì ok perfetto vi ringrazio mi scuso perché non sono riuscito ad essere presente questa sera con voi ma ho trovato i vostri interventi assolutamente interessanti e vorrei collegarmi a quello che diceva Bettini prima di me l'architetto Bettini a proposito dell'inacitabilità del livello del fatto che il livello di bonifica debba essere proporzionato all'utilizzo che se ne fa questo vuol dire non solo che ci hanno hanno dato alla città un'area sana e ce la restituiscono inquinata ma se quell'area secondo gli amministratori che sono presenti in sale che propongono vogliono destinarla a parco in compensazione della costruzione dell'ospedale alla Pellerina cementificano un'area sana incontaminata e ci restituiscono in compensazione un'area pesantemente inquinata a meno che non mi assicurino che l'area del parco della Thyssen venga bonificata completamente altrimenti ci ritroviamo un altro parco d'ora con tutto quello che comporta l'impossibilità di fare qualsiasi cosa perché quell'area continua a essere inquinata e continua ad esserci comunque infiltrazione di cromo eservalente nelle acque della Dora allora io credo che non sia inaccettabile come diceva l'architetto Bettini che quell'area debba continuare ad essere inquinata quell'area deve essere bonificata a prescindere dell'utilizzo che se ne fa e continua ad essere inammissibile che l'area del parco della Pellerina attualmente destinata a verde cosiddetta ghiaione debba essere cementificata bisogna costruire sul costruibile ecco vorrei capire esattamente se la proposta dell'amministrazione comunale è proprio quella di cementificare un'area sana e restituire alla città un'area inquinata grazie posso dire solo una cosa dal punto di vista giuridico perché mi sostituisco indegnamente alla consigliera perché non c'è più non è più qua è uscita però volevo solo dire che non è giuridicamente corretto subordinare la bonifica alla destinazione alla modalità di utilizzo dell'area io quando infatti avevo letto questa delibera questa determina del dirigente del comune la prima cosa che mi aveva colpito era quella dovrà essere calibrato rispetto all'effettiva modalità di utilizzo dell'area ma non è il diritto che lo richiede vorrei che fosse chiaro il codice dell'ambiente non dice questa cosa qua questa è una libera interpretazione del comune di Torino che la bonifica è proporzionata e subordinata al tipo di utilizzo dell'area ma non è così la bonifica è ripristinare lo stato dei luoghi che era esistente prima prima dell'inquinamento quella è la bonifica quindi è assolutamente illegittimo questo tipo di previsione della determina del comune di Torino sul fatto poi che ci sia tutto un rischio di gestione pubblica vabbè questo è un'incognita sulla quale però condivido con con Maria Angela il fatto che non si può subordinare l'esercizio di un proprio potere di vigilanza e di corretta gestione del suolo al fatto che non ci sono le risorse perché vorrebbe dire abdicare dalle funzioni fondamentali del comune cioè sarebbe incostituzionale sarebbe incostituzionale perché violerebbe l'articolo 118 della costituzione dove c'è scritto chiaramente che il comune ha quelle funzioni amministrative e se non le esercita perché non ha i soldi sta compiendo un'attività che è contro la costituzione questo vorrei che fosse chiaro poi dopo di che si può discutere cassa depositi e prestiti eccetera eccetera ma non se no torniamo al fatto che i diritti sono tutti finanziariamente condizionati e quindi non sono esercitabili se non dove ci sono le risorse ma questo svuota svuota la costituzione svuota le funzioni delle pubbliche amministrazioni non deve essere così scusate lo sfogo ma mi sembrava una risposta doverosa qualcun altro si possa aggiungere in questo periodo in cui siamo tutti chiamati a difendere la costituzione mi fa particolare specie questo modo di pensare dentro alle compatibilità dell'esistente come se fosse immodificabile noi come movimento ATTAC nasce a Porto Alegre dove si è affermato che un altro mondo è possibile che questo mondo non è in vendita e non sono slogan si è elaborato una cultura su questi principi che ha una difficoltà enorme ad affermarsi ma che è alternativa altrimenti altrimenti non difendiamo la costituzione ci sciacquiamo la bocca con la pretesa di difenderla ma nella sostanza continuiamo la vecchia maniera ed è questo che dovremmo chiedere ai nostri amministratori prima di tutto compatibilmente poi con tutti i limiti che ognuno di noi ha e che le situazioni hanno ma rispetto ai soldi saranno briciole noi abbiamo dimostrato che il comune di Torino se avesse un atteggiamento dignitoso nei confronti delle banche rispetto ai derivati avrebbe risparmiato 160 milioni di euro ad oggi o all'anno scorso non mi ricordo ci sono i documenti e tutto e i nostri consiglieri comunali che non e allora qui c'è una volontà politica evidente o un'ignoranza che non voglio pensare che siano a questo livello di insipienza degli amministratori pubblici e chiudo qualcun altro Simona volevi intervenire? io vieni qua vieni qua perché se no non passi alla storia no non vorrei passare alla storia perché mi sono sfuggiti alcuni passaggi perché abbiamo detto che la bonifica è proporzionata all'uso dell'area nonostante questa determina abbia tutte quelle insomma non rispetti proprio il concetto di bonifica prima parlavamo dell'esproprio della possibilità poi di dare una destinazione diversa ad uso sanitario verde che quindi renderebbe la bonifica non insomma piena e totale e la se questa è a carico di chi è inquinato e mi pare che la ravinale mentre andava via abbia detto che comunque l'ultimo passaggio di proprietà è stato più che altro una cessione di quote e che quindi forse come dire Tissen comunque ha la liquidità necessaria a sostenere questa bonifica allora perché a me un po' cioè io sono d'accordo con la cosa che diceva Magliangera che il comune di Torino sì non ha non ha risorse però fa di tutto per non procurarsi queste risorse non contestando il debito eccetera però in questo specifico caso essendo la proprietà che ha inquinato è giusto che la bonifica sia carico loro e allora mi chiedevo questo problema che c'è dove sta se non ci sono strumenti coercitivi verso verso la Tissen per dire adesso tiri fuori subito i 30 milioni 3 milioni cioè non c'è non c'è il fatto non riesco non riesco tanto a capire c'è ma dipende scusa no no niente no no era che non stando tutti questi passaggi e io dico beh allora la soluzione è lì però poi si dice è difficile è difficile allora ho perso un pezzo grazie se tu hai spiegato no effettivamente la la soluzione c'è giuridicamente anche percorribile ma chi è che la deve attivare il comune cioè i poteri sono quelli del sindaco e allora quello che quando ho provato a ricostruire la vicenda almeno con i documenti di cui dispongo mi dava particolarmente fastidio è che il comune ha subordinato questo intervento di bonifica che grava sul proprietario inquinatore a una scelta e anche a una tempistica che è lasciata allo stesso inquinatore cioè lì il problema cioè il comune dice con questa determina che secondo me grida vendetta dice due cose dice valuta tu i tempi necessari e io intanto ti progo tutte le volte che mi chiedi la proroga poi adesso dicevate che è arrivato un documento di 500 pagine vediamo ma probabilmente per esaminarlo ci vorrà tempo no è evidente e quindi occorrerà magari altro tempo perché a fronte di quel documento di 500 pagine ci vorrà ulteriore tempo per dire se è praticabile se è attuabile eccetera e quindi di nuovo verrà chiesto una proroga perché per mettere in atto le misure contenute nelle 500 pagine e quindi questo è il primo problema il comune dice all'inquinante all'inquinatore chiamatelo come volete al privato gestisci di tui tempi questo sta dicendo e due ancora più grave e sappi che comunque bonificherai nella misura in cui sceglierai di utilizzare in un certo modo quel terreno perché ripeto deve essere calibrato rispetto all'effettiva modalità di utilizzo dell'area segue e è avviato un percorso di ridefinizione comprendente la valutazione da parte dell'impresa della possibilità di sviluppo e di utilizzo dell'area secondo sue scelte quindi l'amministrazione pubblica sta a guardare gli strumenti coercitivi al sindaco diffida da un termine la legge è chiarissima entra un termine e lì il termine è perentorio non possono dire che è ordinatorio ma non lo fa ma allora non c'è ragione non è quello che diceva Paolo Paolo Prieri allora a fronte di un'amministrazione che non fa gli si può chiedere di provvedere entro un certo termine pena eventuali azioni è certo è perché c'era la volontà politica c'era la volontà politica quindi la norma c'è gli strumenti giuridici ci sono sono gestiti in questo modo come dire da temporeggiatore ma non solo da temporeggiatore è un modo se posso dire un po' pilatesco perché e lo dico perché qui si lascia al privato la scelta su tempi modalità e utilizzo anche cioè tutto scegli tu perché questa è l'amministrazione che dice io non ho i soldi quindi piuttosto di rischiare di mettere io i quattrini parliamoci chiaro faccio fare a te ma nel lasciarti fare abdico dal mio ruolo perché sei tu privato che hai inquinato che decidi come fare a bonificare come e in che misura che è ancora più grave questa cosa che tutti hanno contestato e su cui io sono d'accordissimo anche l'architetto prima è che non è ammissibile che la bonifica venga graduata venga fatta in parte parzializzata tutto quel che vuole non esiste chi inquina paga chi inquina bonifica ripristina lo stato dei luoghi come erano prima dell'inquinamento questa è la legge secondo me non è neanche equivoca la formulazione è lineare dicevano i romani in claris non fit interpretatio se la norma è chiara non c'è bisogno di interpretazione però in Italia come dire abbiamo sempre bisogno di interpretazioni no? anche quando non servono qui è chiara il sindaco ordina entro un termine ripristino lo stato dei luoghi punto ordina entro un termine poi il termine viene prorogato prorogato di nuovo decidi tu vedi come è meglio e non è così non decide il privato tra l'altro il privato che è inquinato sapendo sapendo che questi terreni erano appartenevano all'IPAB sì tra l'altro c'è tutta la storia e che con la legge dell'IPAB sono diventati di proprietà di proprietà del comune sì infatti l'area Bonafus tutta la l'IPAB enorme quindi quello che è veramente esasperante è anche il fatto che noi non siamo ancora riusciti dopo tanti anni che ci occupiamo di queste cose a capire come sono stati ceduti per esempio a saggi di proprietà prima prima l'impresa siderurgica italiana insomma che poi l'ha venduto a Thyssen e Thyssen poi a Darvedi sono questi passaggi di proprietà da Thyssen a Darvedi li conosciamo da Liri o qualcosa del genere alla Thyssen ma come siamo stati ceduti in quali termini in base a quali contratti non siamo riusciti a metterci le mani e nemmeno pare i consiglieri comunali come è possibile lì ci vorrebbe ma quando sono stati ceduti a suo tempo erano terreno agricolo quindi nemmeno concetti inquinanti moderni perché all'epoca non c'erano quindi terreno sani che oggi sono in queste condizioni qualcun altro vuole dire qualcosa ci stiamo abbiamo fatto un bel confronto e ci siamo messi a disposizione un sacco di informazioni che sarà un problema tra l'altro adesso coordinare però io chiedo già davanti a tutti quindi mi devi dire di sì al professor di aiutarmi mi prendo io l'incarico di fare la sprivana proprio di mettere giù perché a me stimola molto il discorso della responsabilità del dovere del sindaco di intervenire vai a Nuova York a imparare da Bloomberg come renderti simpatico con la popolazione guarda te lo diciamo noi ascoltandoci un investimento sul futuro un investimento sul futuro potrebbe anche se non c'è nessuno dal posso scusate posso giustino giustino sì sono io posso brevemente allora ci sono due due suggestioni una sulla questione dell'esproprio perché come sai Maria Angela stiamo portando avanti questa questione anche in un altro campo che è quella degli alloggi sfitti e che si avrirebbe un altro capitolo però volevo solo segnalarvi che sarebbe interessante verificare dal punto di vista della della questione di cui si sta discutendo della Thyssen io mi sono collegato da Cirie come sapete a Cirie è presente la storica fabbrica della morte dell'Iprga che proprio in questa fase in questo periodo è oggetto di un finanziamento del PNRL di 4 milioni per intervento di riqualificazione e di recupero dell'aria su cui si stanno ragionando tutta una serie di progetti ma la cosa che a me tra l'altro l'aria è stata acquisita dal comune di Cirie che sta effettuando tutti gli interventi di messa in sicurezza con l'imperbializzazione dei canali in modo che come dire le acque non facciano circolare tutti i veleni sottostanti all'aria la cosa che abbiamo lasciato infatti stavo dando uno sguardo proprio ai servizi specifici sull'IPGA la cosa che mi sta lasciando veramente perpresso è che la dirigente del settore che ha sviluppato i progetti di messa in sicurezza continuo a ribadire che in quell'area sono presenti e che non è possibile fare un preventivo perché ci sono degli l'aria inquinata e non si riesce assolutamente per la comprensità di intervento a comprendere quali siano sia l'intensità che dal punto di vista del valore economico però intanto fanno questi interventi diciamo così di impermealizzazione dei canali e dall'altra parte si stanno sviluppando i progetti di riqualificazione urbana architettonica dell'aria attraverso un processo diciamo così di recupero di alcuni immobili altri e via discorrendo ci sono questi aspetti che non riesco a comprendere sembrerebbe quasi che tutti i progetti vanno avanti indipendentemente della bonifica del sottosuolo grazie grazie a te Justino effettivamente c'è un'iniziativa lanciata da comunetti arteri a due associazioni che si propone di presentare una delibera di iniziativa popolare al comune di Torino per affrontare seriamente il problema degli sfratti e dei vuoti delle decine di migliaia di appartamenti vuoti che non vengono affittati né venduti ma tenuti come capitale dalle società dalle grandi società immobiliari e di intervenire anche rispetto a questo è una proposta di delibera che sta andando avanti che verrà presentata penso noi abbiamo anche partecipato alle riunioni su questo aspetto bisognerà vedere se ce ne sono sto pensando la delibera di iniziativa popolare di variante del piano regolatore per la TIS la delibera di iniziativa popolare contro i vuoti urbani gli sfratti eccetera quella di iniziativa popolare per la quale abbiamo raggiunto già le 1500 firme ma ne raccoglieremo ancora di indirizzo al SMAT per la gestione dell'acqua sono c'è una delibera no c'è una proposta di legge regionale di iniziativa popolare che sta coltivando il sindacato CGL e diverse associazioni per quanto riguarda la sanità cioè c'è il popolo che si sta muovendo ma che segnala anche che su temi così la casa la sanità l'acqua le istituzioni non si muovono tant'è che la gente si raccoglie raccoglie le firme e così via e questo la dice lunga sulla rappresentatività e democraticità delle nostre istituzioni naturalmente questo però da stasera vediamo come sistemare un po' le cose che sono emerse molte molto interessanti molto impegnative e magari ritrovarci in futuro però per esempio lunedì sera al Gabrio c'è già una riunione di un coordinamento che si occuperà del nuovo piano regolatore perché da come si stanno mettendo le cose questa è un'opinione mia personale ma è abbastanza condivisa anche dai compagni e compagni che partecipano a questo coordinamento questo piano regolatore Bettini diceva ci vorranno anni probabilmente ci vorranno anni ma forse per fare quello che sembra di capire dai nostri amministratori togliere le regole togliere i vincoli lasciare dimmi fai tu è così fai tu vieni qua fai tu portami i soldi PNRR quella roba lì fai tu quindi bisogna solo cancellare alcune cose del vecchio piano compreso i limiti all'altezza degli edifici tanto per fare il colore fate voi la vecchia classe dirigente laissez-faire che vada in quel modo altro che governo fare i notai di scelti altrui perché cosa allora si capisce perché anche la gente non si appassiona più tanto e magari ti firma per e se non fai ti commissariano e se non fai ti commissariano ecco giatto compresa l'INAIL la Meloni ha commissariato l'INAIL 40 miliardi lì da gestire per quello che lo commissariano quindi il prossimo appuntamento che rendono tra tutti è lunedì sera alle 6 al Gabrio su come affrontare insieme questa questa scommessa del nuovo piano regolatore mi diceva Ravinale che stanno cercando di organizzare loro qualcosa sulla TISEN come gruppo consigliare entro il mese e noi vediamo di fare un po' un riassunto se non mi aiuti per favore di questa sera ve lo ve lo trasmetteremo magari indicando anche un appuntamento per entrare di più nel merito secondo me un aspetto di rimente è proprio la via legale da un lato che non siamo assolutamente in grado di affrontare perché non abbiamo e anche personalmente io ci credo preferirei una bella piattaforma e trovarsi davanti al comune a dire guardate che siamo qua a chiedervi conto la via legale non tanto come contenzioso ma come pressing certo usando magari gli strumenti come mi suggerivi per questo caso il professore civico per quel che può contare poverino per come viene ascoltato e bene o male anche per un po' di propaganda non proprio filogovernativa regionale e comunale se siete d'accordo io direi che possiamo lasciarci a questo punto vi ringrazio moltissimo vi ringraziamo ringrazio in particolare Riccardo che si occupa sempre degli aspetti informatici e Mary che ci manderà poi la registrazione del tutto e naturalmente Sereno Regis che ci ospita sempre generosamente grazie